Guarda, no, io inizierei con... Beh, il prodotto che è più vendibile, quello diciamo che si vende le di Oli. C'ho fra questi un mio preferito, ma lo lascio per ultimo. Va bene. Miss Claudia! Venga, Miss Claudia, venga! E come dire no? Perché questo è facile. Iniziamo! Iniziamo, diciamo, facile. Porte so che bene, signorito. Dove posso mettermi? Mi vuoi a destra o a sinistra? Tu fai tutto te io, io ti lascio lavorare. Hop! Ma come hop? No, dico hop! Ma cosa mi hai preparato? Prego, prego. Paolo, cosa mi hai preparato? Signori e signori, ma guardatela, ma guardatela. Ma questa si vende da sola, il prezzo. Non ha prezzo, Miss Claudia! Non ha prezzo! 100% italiana! Sì! Carne nostra, carne nostrana! Ma se non c'è prezzo, se non c'è prezzo. Non può comprare la legna adesso? Non sa, non sa, non sa. Ma questa è prezzo! Qui c'è putta la mafuona! Se poteste sentirne il profumo, voi sicuramente comincereste subito a telefonare. Questa va bene per tutta la famiglia. Signori, farete contento il vostro bimbo, il papà, il nonno. Ma tempi moderni. Anche la mamma! Li senti i centralini! Fermi, fermi! Li senti un attimo! I centralini! Li telefonate, non lo telefonano. Io giro col numero di sovraimpressione. Ce lo guarda, ce lo guarda. Non ti preoccupare!